Dallo stadio Capo Iprati di Fiuggi, Atletico Terme Fiuggi, Pineto. Un saluto da Riccardo Selvi e Marco Daguano. Fischia Silvera, è cominciata Atletico Terme Fiuggi, Pineto. Tocco centrale per Lorenzo Paoli, anche lui con grande esperienza. Arriva subito il primo cross, deviazione pericolosissima. L'anno scorso bottino importantissimo, 16 gol in 32 partite, un gol ogni due. Ficara intanto, in area di rigore, uno contro uno con il Pepe, però prendersi l'effondo. Ancora Ficara, uno sguardo verso il centro. Cross per Falla, di testa, va a mettere il palone in rete. Il vantaggio dell'Atletico Terme Fiuggi dopo otto minuti. Passa la squadra di Romondini, grande azione di Ficara sulla destra. Il tap in, di testa, di Falla, 1-0. Baldinini, cross per Pezzotti, tutto solo, si coordina col sinistro. L'area è spinta con i pugni di Meiri. Baldinini, si prende il fondo, arriva il cross, verso Cardella che la spizza, arriva Pezzotti col sinistro, la rimette al centro, un po' di confusione. Si salva però, in qualche modo, il Fiuggi. Fischietto in bocca per Silvera, che fischia in questo istante. È cominciato il secondo tempo, prova a pescare Pezzotti, altro gran controllo di Pezzotti, uno contro uno con Adinezza. Qual è il cross? Col destro, Cardella si coordina per la rovesciata. Baldinini la rimette al centro, dalla parte opposta poi. Il tentativo di Minincleri, che finisce però sull'esterno della rete. Poi Domizzi circa il tiro, facile per Meiri, che in due tempi fa suo il pallone. Fall, controllo col destro. Tiene pallone e fa scorrere anche i secondi. Fall, cerca addirittura la conclusione. Facile per Mercorelli. C'è Minincleri largo a destra, che chiama il pallone, lo va a prendere Tagliani. In azione di pressing, Minincleri alza il pallonetto. Colpo di testa di Thomas, che giganteggia ancora una volta di testa. Poi Tagliani, in rovesciata. Grande confusione. Arriva Marcheggiani, che colpisce forse con la mano. Attenzione perché il pallone sguscia via, ma è facile. Preda di Meiri. Fischietto in bocca per Silbera. Finisce qui, al Capo Iprati, le big match della settima giornata. L'atletico Terme Fiuggi batte 1-0 il pineto, grazie al gol all'ottavo. Diamet Fall, la squadra di Romondini, è prima in classifica. In solitaria, quota 18 punti. Dallo stadio Capo Iprati di Fiuggi è davvero tutto. Un saluto da Riccardo Selvi e Marco Daguanno. ... ... ...